Ok, oggi vediamo di focalizzare la nostra attenzione sulla forza elastica. In realtà l'abbiamo già incontrato, la forza elastica, proprio iniziando a parlare di forze. Perché? Perché la forza elastica è quella che viene utilizzata nel dinamometro proprio per misurare le forze. Abbiamo visto che la proprietà di elasticità è quella secondo la quale un corpo può essere deformato dall'azione evidentemente di una forza, può essere esteso oppure compresso e una volta che viene a mancare la causa deformante, quindi la forza applicata all'oggetto, questo torna nella forma iniziale. Il corpo che più rappresenta, che meglio rappresenta questa proprietà è la molla, che rappresentiamo normalmente con una specie di spirale. Qui c'è un estremo, in grosso modo è fatto così, qui c'è l'altro estremo libero. Immaginate di fissare uno dei due estremi per esempio a una parete o muro o qualcosa di rigido. La distanza tra i due estremi, chiamiamo questo A e questo B, quindi questa distanza, viene normalmente chiamata lunghezza a riposo della molla. L0 è la lunghezza della molla non deformata, cioè in assenza di forze esterne, di forze che la comprimono o che la allungano. E normalmente la posizione del punto B, se prendiamo A come origine, è rappresentabile, fatemelo scrivere per esempio in verde, da un vettore che parte da A ed è diretto verso B. Questo è il vettore L0. Se applichiamo una forza AB, quindi se la molla viene deformata, fatemi rifare il disegno, questo è sempre l'estremo A dove era prima, qui adesso la molla è un pochino più lunga, qui c'è il vettore B. Quindi adesso la posizione di B è indicata da un altro vettore, sempre con riferimento ad A, ok? E in conseguenza la deformazione, la molla applica al punto B una forza, detta forza di richiamo, ed è una forza elastica appunto, che è proporzionale, la forza elastica è proporzionale al vettore allungamento della molla, delta L, dove per delta L intendiamo la differenza tra il vettore che indica la lunghezza attuale della molla, meno quello che indica la lunghezza di riposo. Quindi se, fatemi riportare qui sotto, questa era, ecco, più o meno qui, nella lunghezza con la molla non deformata, questo invece è il vettore L0, questo è il vettore L, questo vettorino qui più piccolo, lo disegno in blu, che va da questo punto a questo punto, questo è il vettore delta L, il vettore deformazione. Non solo, ma come potete osservare, se io allungo la molla, quindi se sposto B verso destra, il vettore delta L in questo caso punta verso destra, la forza punta verso sinistra, quindi si dice che è una forza di richiamo, fatemelo scrivere perché questo è un termine che si usa spesso, la forza di richiamo, cioè che tende a riportare la molla nelle condizioni di partenza, nelle condizioni a riposo, quindi se la allungo la forza di richiamo tende ad accorciarla, se la comprimo la forza di richiamo tende ad allungarla. E tra la forza elastica e il vettore deformazione, delta L, c'è una relazione piuttosto semplice, i due sono proporzionali ma di verso opposto, quindi c'è meno, un meno che sta a indicare i due versi opposti, e una costante K che prende il nome di costante elastica. Quindi i due vettori forza e allungamento sono due vettori che hanno la stessa direzione, perché sono uno multiplo dell'altro, ma verso opposto perché il multiplo è negativo, che c'è un fattore che permette di passare da un vettore all'altro. Questo meno sta a indicare che la forza è proprio di richiamo, cioè una forza che tende a ripristinare le condizioni di partenza, ed è tanto più intensa quanto più grande l'allungamento. Questo valore K o costante elastica si misurerà in newton fratto metro, visto che il prodotto di K per una lunghezza deve dare una forza, quindi si misura in newton su metro, quindi forza diviso lunghezza, e tanto più grande è questo numero, tanto più difficile sarà deformare la molla, cioè tanto più rigida, diciamo, è la molla. Questa è la relazione vettoriale completa, quindi che ci dà tutte le informazioni sul comportamento della molla, e viene normalmente indicata con legge di Hooke. Che ricordo un po' Capitano Uncino, se preferite. Hooke era un contemporaneo di newton, Robert Hooke. Se mi interessa invece l'intensità della forza, ok, allora della forza elastica, allora è sufficiente trascurare i segni vettoriali e indicare come K per delta L. Spesso questo delta L prende anche il nome di X, viene indicato anche dalla lettera X. Quindi l'intensità della forza e l'intensità della deformazione, qui mettiamo delta L oppure X, se preferite qui la forza elastica, in una grandezza FE è proporzionale a X, quindi il suo grafico sarà una retta che esce dall'origine. e quindi la forza elastica è K volte X, con K il coefficiente agolare di questo angolo, perché K in questo caso F gioca il ruolo di Y, X di X, e quindi la K gioca il ruolo di M coefficiente angolare. Se non ci sono domande possiamo fare qualche esercizio per mettere in pratica quanto appena visto. e uno per esempio, quello che trovate a pagina 233, dice le corte di sicurezza che si usano nell'arrampicata sportiva sono elastiche, quindi se subiscono una tensione si vengono deformate. in una palestra da arrampicata un climber, cioè uno scalatore, è giunto in alto e si fa calare a terra. usa una corda, e qui che lo sorregge, e la massa dello scalatore, M piccolo, vale 70,4 kg. la costante elastica che caratterizza la corda che sta utilizzando, vale 3,29 per 10 alla 3 newton su metro, quindi è abbastanza rigida. ok? qual è l'allungamento subito dalla corda? qual è il suo delta L? ok, quindi abbiamo, se possiamo rappresentare qui abbiamo la corda in verticale, qui c'è il nostro scalatore M, ok, quindi la forza che lo scalatore applica alla corda è la sua forza peso, e la corda lo sorregge perché, essendo deformata, reagisce con una forza elastica. quindi la forza elastica con cui la molla mantiene in equilibrio lo scalatore è tale da bilanciare la forza peso, quindi è la massa dello scalatore per la sua accelerazione di gravità. vi ricordo che G vale 9,81 metri al secondo quadrato. di conseguenza, utilizzando questa relazione, abbiamo che la forza elastica vale costante elastica per allungamento della molla e questo è il bilanciato della forza peso che è M volte G. quindi l'allungamento o la deformazione, se preferite, della nostra corda vale il peso dello scalatore Mg diviso per la costante elastica della corda. quindi in nostro caso avremo la massa che è 70,4 kg moltiplicata per l'accelazione di gravità 9,81 metri al secondo quadrato tutto diviso la costante elastica che è la 3,29 per 10 alla 3 N fratto metro. vi vedete che kg per m secondo quadrato fanno Newton e Newton si può semplificare con Newton denominatore quindi il risultato sarà in metri. lo calcoliamo quindi viene 70,4 per 9,81 diviso 3,29 e diviso ancora 1000 diviene 0,2099 metri quindi approssimiamo questo a circa 21 cm o 0,21 m se preferite quindi la mola si deforma tutto sommato parecchio 21 cm non è pochissimo ok? se non ci sono domande passiamo a un altro esercizio lo vediamo per esempio ecco che questo è interessante questo lo chiudiamo facciamo questo altro esercizio che è il 40 e dice un bambino gioca con un suo nuovo tappeto elastico quindi abbiamo vi visto in sezione il tappeto elastico è fatto in questo modo appoggiato sul pavimento il pavimento il tappeto elastico ha una costante elastica K di 2400 newton frattometro ok e la membrana all'equilibrio a cui la vedete di taglio si trova a un'altezza H H0 anche quindi quando non è non soveggi il bambino ha un'altezza di 30 cm da terra quindi 0,30 metri dal suolo quando il bambino sale sul sul tappeto elastico ok il il suo peso lo fa do deforma quindi assume diciamo ecco questa questa forma e qua sopra c'è il bambino e il tappeto si abbassa quindi questa distanza rispetto alla posizione di equilibrio questa misura 15 cm che quindi se volete la deformazione della molla quindi il delta H vale 15 cm o meglio 0,15 metri e quanto pesa il bambino qual è la massa del bambino anche in questo caso la forza elastica con cui la molla reagisce al peso del bambino vale K a volte per in questo caso delta H la deformazione della quota del tappeto che sarà bilanciato dal peso M per G quindi la massa del bambino varrà la forza elastica K per la deformazione diviso la costante di gravitazione di la costante di accelerazione di gravità G quindi la massa del bambino vale quindi che abbiamo detto 2400 newton fratto metro per 0,15 metri fratto 9,81 metri al secondo quadrato diviso circa 10 viene circa 36,7 kg diviso 9,81 metri al secondo quadrato diviso circa 10 ci viene circa 36,7 kg in realtà l'esercizio chiedeva il peso non la massa chiede scusa quindi la risposta è 360 newton poi la domanda dopo è anche interessante dice il papà del bambino ha una massa di 85 kg quindi rispetto il peso del bambino è di 360 newton la massa del papà che è decisamente superiore a 85 kg è opportuno che il papà salga sul tappeto elastico? se lo facesse quale sarebbe la deformazione? beh il peso del papà di P e quindi la massa sempre per G che vale quindi 85 kg per 9,81 metri al secondo quadrato il peso del papà vale 833,85 newton quindi la proprietà elastica del nostro tappeto per sostenere il peso del papà deve deformarsi di una grandezza che rispetta la legge di Huck quindi K volte scusate il delta H deve essere uguale al peso del papà quindi la deformazione della molla sarà il peso del papà diviso la costante elastica K quindi 833 diviso 2400 se non mi ricordo male e otteniamo 0,347 metri quindi circa diciamo 35 cm che come vedete è superiore alla distanza che il profilo del tappeto elastico ha quel pavimento quindi se torniamo alla figura iniziale la deformazione in verticale del tappeto supera la quota del tappeto stesso quindi il papà tocca terra in sostanza e quindi ragionevolmente si fa male se vale sul tappeto oppure lo rovina quindi non è opportuno che il papà si metta a giocare con il tappeto elastico del suo del suo bambino perché lo deformerebbe in modo eccessivo o lo alza di più oppure evita di salirci ok vediamo se riusciamo a farne ancora uno vediamo questo il successivo il 41 dice una molla ha una costante elastica k pari a 80,0 newton su metro e ha una lunghezza di l che vale 13 scusate 13,6 centimetri quando le ha applicato una forza f di 2,3 newton quando agisco sulla molla con la forza di questa intensità la molla ha questa lunghezza e ci chiedono qual è la lunghezza di riposo della molla cioè se io rilascio la molla qual è la lunghezza che assume quando nessuna forza è applicata e quindi niente la deforma beh utilizzando k ed f possiamo trovare la deformazione della molla guardate che la forza elastica vale k a volte delta l quindi qui la forza applicata è 2,3 quindi che bilancia quella elastica per cui la deformazione della molla vale la forza applicata diviso la costante elastica nel nostro caso avremo un delta l che vale 2,30 newton diviso 80 virgola 0 newton su metro e quindi otteniamo il punto 3 diviso 80 0 virgola 0 28 75 metri ma delta l vale la lunghezza attuale meno quella riposo per cui la nostra incognita è l0 l0 lo otteniamo da l meno l'allungamento della molla quindi avremo quanti erano 13,6 centimetri meno il delta l in centimetri che sono 2,8 7 5 quindi 13,6 meno 2,8 7 5 che fa 10,7 2,5 centimetri possiamo approssimare in 10,7 non sento domande quindi direi che va bene proviamo ancora questo che sul libro però non c'è ma ve lo propongo io immaginate di avere un piano inclinato i piani inclinati tornano abbastanza spesso l'inclinazione del piano che è quest'angolo alfa sul nostro piano è appoggiato un corpo di massa n piccolo questo corpo è soggetto all'azione di una molla di costante elastica k è attaccato ok supponete che l'angolo alfa sia di 30 gradi la massa m del blocchetto sul piano inclinato sia di 10 kg e la costante k della molla sia di facciamo un conto tondo 1000 newton fratto metro ok nelle condizioni in cui il corpo è in equilibrio qual è l'allungamento della molla allora ragioniamo sul nostro fatemi rifare il disegno ecco l'ho più qua sotto dobbiamo riuscire a fare un tempo sul nostro corpo m agiscono quali forze beh c'è senz'altro la forza peso che disegniamo con un vettore blu verso il basso poi c'è la reazione vincolare indichiamola in verde r e la forza elastica dovuta alla molla che la indico in rosso che questa volta è a salire non c'è attrito mi sono dimenticato di dirlo no a trito no a trito quindi l'efficienza di attrito lo penso possiamo prendere uguale a zero ok non riesco a sentirmi un istante solo no a trito Grazie.